Dopo aver riscosso un grande successo il programma di Francesca Fagnani è stato promosso alla prima serata di Rai 2 già da due edizioni. La trasmissione, partita sul 9 dal 2018 al 2019, in seguito, nel 2021 si è sposato su Rai 2 in seconda serata. Oggi lo show è giunto ora alla sua decima edizione. Gli ospiti della terza puntata di Belve 2024. Il sito ufficiale della trasmissione ha resi noti gli ospiti che saranno intervistati dalla Belva, Francesca Fagnani, tra questi troveremo Ilenia Pastorelli, attrice vincitrice del David di Donatello nel 2016. Ci sarà poi Simona Ventura, che presto si sposerà con Giovanni Terzi. L'intervista alla conduttrice è stata registrata prima della paralisi facciale che ha colpito la conduttrice negli ultimi giorni. Ultima ospite che subirà le belvate di Fagnani sarà poi l'artista Marcella Bella. Nel nuovo spazio musicale vedremo ospite invece Claudia Gerini. La satira a Belve. Tornano anche in questa edizione di Belve spazi dedicati alla comicità e alla satira. Questo segmento è affidato nuovamente a Carmine Del Grosso e a Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, ovvero le eterobasiche, ragazze romane che sulla loro pagina Instagram portano in scena conversazioni stereotipate tra uomini su temi come il calcio o la comunità LGBTQIA+. Grazie. Grazie. Grazie.